Troppo veloce. Ha scritto. Non corre così. Ma ha capito. Primo fagotto e trombone con cosa? Con i tenori. Identico. È logico. Gli strumenti raddoppiano le voci. Trombe in re. Due la in ottava. Al primo e al terzo quarto. No. Sì, vanno con l'armonia. Ora ci vuole il fuoco. Gli archi all'unisono. Ostinato in là. Ecco, così. Oh, è meraviglioso. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.